Decimo Ecoforum di Lega Ambiente, Chiotoclub, la nuova ecologia, siamo con il direttore generale di Ecopneus Federico Dossena alla sessione di lavori dedicata all'applicazione del GPP e dei CAM in Italia. Si è affrontato anche il tema della necessità di fare dei passi in avanti sul CAM strade. Perché? Perché Ecopneus da oltre 12 anni agisce come elemento di contatto tra l'amministrazione pubblica, l'industria e i cittadini promuovendo la raccolta del pneumatico fuori uso e supportando il riciclo della gomma da esso derivante. Il GPP e i CAM strade possono essere un ottimo volano per il nostro paese per poter valorizzare questa risorsa derivante da un rifiuto quindi la gomma riciclata e introducendola negli asfalti gommati che performano in maniera sostanzialmente particolarmente buona dal punto di vista economico e della resistenza tecnica delle strade per cui realizzano e portano veramente a compimento un passaggio di economia circolare fondamentale per il nostro paese.